Il grande parco urbano di Piazza d'Armi, polmone verde di L'Aquila Ovest, la riqualificazione urbanistica del centrale quartiere di Banca d'Italia, i cui casermoni post-belli ci sono stati in buona parte devastati dal sisma. Due progetti, vagheggiati per decenni, e che ora possono davvero diventare realtà, grazie, malgrado tutto, ai fondi della ricostruzione post-sismica. Cominciamo da Piazza d'Armi. Solo ieri il direttore dell'impartimento ricostruzione del comune, Vittorio Fabrizi, ha firmato il contratto per la realizzazione del parco urbano, con Rialto Costruzioni, l'impresa giudicataria dell'appalto a seguito di un concorso internazionale, e che avrà ora 45 giorni di tempo per redigere la progettazione esecutiva. Costo dell'intervento 18,6 milioni di euro, provenienti dalla legge Mancia e dalla raccolta fondi post-sismica della comunità degli italiani in Australia. L'area di 100.000 metri quadrati sarà in buona parte destinata a verde pubblico. Verrà però realizzato anche un auditorium di 900 posti, che ricorda un grande nido, a più livelli e con parcheggio interrato, un'area giochi, un'area sportiva, una grande piazza. Spostiamoci di un chilometro in direzione centro storico. Il quartiere Banca d'Italia è ancora in parte significativa come il terremoto l'ha lasciato, ovvero un silenzioso succedersi di ruderi pericolanti. Mario Breglia, il presidente della CDF, società immobiliare che ha preso in gestione l'intero quartiere, ha annunciato però come imminente l'avvio dei lavori di ricostruzione e riqualificazione urbanistica, finalizzata, ha sottolineato, a ripopolare il complesso residenziale puntando soprattutto all'arrivo di giovani, studenti, lavoratori e coppie. Il primo intervento consisterà nella dismissione di due palazzine di via Giovanni XXIII, colpite gravemente dal sismo e totalmente da ristrutturare, i cui proventi contribuiranno agli investimenti diretti della società per finanziare le altre iniziative. Tra cui interventi di efficientamento energetico con l'installazione di centrali termiche di ultima generazione, interventi sugli spazi comuni e sulla viabilità, che sarà dotata di illuminazione LED a basso consumo, creazione di nuovi spazi verdi.